amici bentornati sul mio canale un saluto a tutti da leonhard e benvenuti ai nuovi che si sono soffermati sul mio video continuiamo le recensioni di cavalieri dello zodiaco ne andiamo avanti con pegasus edizione bandai hk hong kong 2004 la ristampa che hanno fatta nel 2004 questa è l'edizione originale non quella importata in italia da giochi preziosi anche se l'interno del personaggio è lo stesso ma come potete vedere il disegno sulla scatola è diverso con questo concludiamo praticamente tutte le edizioni di pegasus che sono uscite e che io ho potuto recensire sul mio canale e mancherebbero quelle giapponesi degli anni 80 ovviamente alcuni bootleg ma di queste classiche bandai li abbiamo praticamente fatti tutti allora andiamo un po a vedere come è realizzato questo questo cavaliere potete vedere dalle spesso si può notare anche dalla telecamera che le parti metallo sono leggermente ossidate questo era una caratteristica di questo di questa edizione qui in quella delle ristampe la parte in metallo anche delle plastiche ma specialmente la parte in metallo si andavano a usurare e le argentature in particolar modo pegasus e crystal peccavano di questa caratteristica tiriamo fuori il personaggio andiamolo a montare ora personaggio ovviamente questo gioco questo non è stato mai giocato e troviamo praticamente un personaggio rigido e perfetto ci sono le orecchie del per l'elmo del cavallo di pegasus e andiamo piano piano a montarlo tiriamo fuori le plastiche la protezione l'elmo eccolo qui ci attaccheremo poi le orecchie eccole andiamo attaccarle subito sull'elmo orecchie che si perdevano facilmente questa edizione c'è il vantaggio che sono un po più dure perché queste questi alloggi per le orecchie del cavallo sono più sporgenti quindi la parte in plastica il perno è più sporgente si vanno ad agganciare molto 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 meglio e il rischio di perderle qui è molto molto minore tiriamo fuori i pezzi iniziamo come sempre da sotto guardate voglio tirar fuori utilizzare questo praticamente come leva questo è lo scudo che non c'era nel cartone ma era stato utilizzato e preso come spunto da dal fumetto dal manga e andiamo a montare questo cavaliere quindi 12 lo abbiamo visto montare anche altre volte sia nell'edizione classica che in questa edizione qui molto semplice è montare i cavalieri cosiddetti v1 pochissimi pezzi pegasus poi ne aveva veramente pochi l'unica parte un po complicata poteva essere il pettorale eccoli qua montiamo il cinturone abbastanza rigido meno male peccato questa questa parte metallica che tende un po a diventare azzurra se andiamo a vederlo contro lui ci diventa leggermente azzurrata uno fuori le spalline mettere alla fine e poi tiriamo fuori anche i bracciali dell'armatura che sono i prossimi ad essere montati tiriamo fuori anche le ali vorrei montarlo con le ali perché è molto bello con le le ali ricorda un po quello che c'era nella nella confezione sul disegno dietro la confezione quindi abbiamo leggermente le braccia ecco qui piano piano andiamo a montare il pettorale che come sempre prima agganciato centralmente e poi portato in alto facendo aderire eccola qua il perno sotto sotto l'ascella dopodiché possiamo montare bracciali 12 e in ultimo le due spalline 12 sopra le spalline possiamo mettere le ali qua noterete già che l'argentatura dell'ala è ovviamente sulla plastica ha tenuto molto meglio rispetto alla parte scura del metallo ops dell'armatura non sono riuscito a metterla nella sede e anche l'altra questo come ho detto non è stato mai mai montato quindi sono molto dure le metteremo alla fine ma così quando poi lo metterò sulla piattaforma rotante lo potremmo vedere bene elmo di pegasus e mettiamo qui il quello che rappresenterebbe lo scudo ecco qua il classico pegasus v4 lo dire ottime condizioni lo monteremo con le nostre le nostre le nostre ali e lo vedremo su piattaforma rotante e lo andremo anche a confrontare con quello del negli anni 90 quindi quello classico uscito anche in italia con giochi preziosi con la scatola azzurra quindi a tra poco con la vista in verticale su piattaforma rotante amici eccoci qui con la vista in verticale 360 gradi per quanto riguarda il cavaliere di pegasus edizione 2004 e abbiamo invece in basso e fermo vicino il cavaliere originale del 1990 ovviamente sullo sfondo la scatola originale bandai 2004 ho voluto avvicinare questi due cavalieri per mostrare un pochino le differenze tra i due ovviamente non sono differenze sostanziali però è giusto insomma ragionarci un pochino la prima differenza che potete notare io l'ho fatta vedere anche nell'edizione giochi preziosi è l'attaccatura delle spalline ovvero le ali sulle spalline si attaccano in modo leggermente diverso non hanno dei perni lunghi per tutta la pinza chiamiamola così sulla spallina ma hanno una sorta di base in questo del 2004 e anche la posizione delle ali sono leggermente diverse se lo notate mentre in quello del pegasus del 2004 tendono ad andare verso l'esterno qui sono più raccolte verso l'interno e più strette ecco guardate adesso che sta girando che lo si possono ammirare entrambi frontalmente quindi la posizione delle ali è leggermente diversa delle differenze sostanziali ci sono sull'elmo ve l'avevo già fatto vedere l'elmo l'attaccatura delle orecchie del cavallo di pegaso leggermente più larghe più ampie quindi si nota si nota la differenza mentre per il resto il cliché tra se le dimensioni dei bracciali dei gambali e del cinturone sono praticamente identiche se non leggermente per la fibbia del cinturone che leggermente più marcata differenza sostanziale tra i due è la cromatura dell'armatura mentre la cromatura dell'originale bandai ma anche addirittura quello del 2001 è il bootleg del 2001 rimane argentata questa invece del 2004 purtroppo esposta all'aria ecco come in questo caso tende a ossidarsi tende a prendere una colorazione azzurrata che succede che inizialmente il cavaliere identico in tutte le cromature la parte in metallo azzurrandosi in questa maniera poi va a staccare con quelle che sono le parti in plastica che rimangono poi cromate quindi ci si trova con i piedi gambali i bracciali la parte delle spalline e il cinturone azzurrato in termini di ossidazione della verniciatura mentre le parti in plastica come le ali l'elmo e il pettorale e se volete anche mettere il copri bracciale ecco lo scudo che si può vedere in questo momento per completare con tutti i pezzi il personaggio questi rimangono in in argento cromato e quindi c'è questo stacco di colore che con i riflessi dell'illuminazione della mia stanza non si nota tantissimo ma vi assicuro che da vicino c'è notevole differenza quindi se nella vostra collezione avete entrambi i prodotti se li mettete magari su due ripiani separati uno sotto l'altro dopo un po di tempo si cominciano a vedere delle sostanziali differenze sulle cromature e lo stesso identico difetto anche se non tende a diventare azzurato ma tende a diventare più ossidato ce l'ha il cavaliere di cristal il cigno di questa edizione 2004 così come ce l'aveva pegasus di fuoco l'edizione bandai l'edizione bandai pegasus di fuoco tendeva a rovinarsi e la parte in metallo tendevano a ossidarsi a perdere l'argentatura qui l'argentatura rimane non è che si toglie la vernice ma a contatto con l'aria ha questo tipo di colore dopo dopo qualche anno lo fa questo difetto non lo fa subito ricordo quando acquistai per questi alcuni di questi personaggi i primi anni che uscirono nel 2004 nel 2005 l'ho presi di importazione prendevo all'epoca collezionavo dei lotti quindi pendevo tutti i cavaliari di bronzo o tutti i cavaliari del mare o addirittura ed era la spesa maggiore i cavaliari d'oro c'erano anche i cavali di neri che erano ben fatti quelli quelli resistono molto bene e quando mi erano arrivati erano perfetti con un po di tempo prima di ritrovare gli originali degli anni 90 che poi ho inizio della mia collezione ho notato che questi del 2004 purtroppo pian piano andavano a danneggiarsi quando è uscita la versione giochi preziosi nel 2004 ne ho comprato uno 2006 scusate qui in italia ne ho comprato uno comprai mi sembra sirio il dragone ho capito che dalla conformazione del personaggio della colorazione che era quello del 2004 specialmente il particolare dello scudo e ho capito che anche questa edizione del 2004 del 2006 in italia non erano che la versione hk era un po di dubbante a comprarlo ad aprirlo lo volevo quasi aprire nel negozio perché così come nel 2001 quando dalla scatola sembravano i cavalieri sembravano riprodotti non erano bandai nel 2001 ma erano di buttare che avevo un po paura qui ho trovato bandai io ho ritrovato quelli che già avevo e quindi c'è questa differenza sostanziale che rende per quanto riguarda questi cavalieri i galleri di bronzo rende comunque un prodotto ottimo ci sono il cavaliere di fenix il cavaliere di andromeda che sono praticamente perfetti rispetto a quelli originali se non un po fenix e potrei poi l'arancione un po più scuro ma le cromature che si possono leggermente danneggiare ma se uno sta attento non si consumano andromeda è praticamente identico se non per la cadena leggermente più spessa dragone crystal e pegasus hanno delle differenze anche costruttive ma soprattutto crystal e pegasus hanno questo difetto sulla parte argentata che si si che col tempo purtroppo si si fa notare certo se lo tenete in una bacheca magari chiusa prende meno aria e vi dura per un po più di tempo o altrimenti ecco ho visto molte persone ricolorarlo quindi andare a con con una con un'ottima vernice c'è la tamiglia per esempio argentata che hanno praticamente ricolorato l'intero cavaliere che hanno rifatti i bordi è venuto un buon lavoro questo lavoro resiste e però è chiaro che si 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 deve avere un po dimestichezza e la capacità di mettere mano al personaggio e non è possibile lasciarlo in queste condizioni questa recensione finisce qua io spero che vi piaccia spero che vi sia piaciuto il mio lavoro spero che vi piaccia come come è stata realizzata come sempre ragazzi sostenetemi iscrivetevi al canale lasciatemi i vostri commenti che sono sempre le cose più gradite con molti di voi ho scambiato ricordi tra i commenti ed è stata una cosa veramente piacevole veramente bella scambiare i ricordi veramente mi ha riportato a ad alcuni personaggi chi l'ha comprati chi non l'ha comprati chi li ha venduti chi l'ha ritrovati come fondo di negozio chi aveva la tabaccheria che aveva da un lato dei giocattoli aveva chiesto per natale dei cavalieri ognuno di voi mi ha raccontato una storia ho comprato con mio padre il cavaliere di pesci volevo il mio segno ho trovato acquario molti di voi mi hanno raccontato le vostre storie e mi fa veramente molto piacere questi sono cavaliere un po più recenti me ne rendo conto rispetto alla nostra infanzia però ormai sono usciti da vent'anni anche qua magari ci sono degli aneddoti perché quando li avete avuti dalle mani magari vi è ritornato in mente un qualcosa di di bello di quello che era un episodio del passato come sempre vi ringrazio per esservi soffermati sul mio canale se volete iscrivetevi se volete lasciare i miei commenti io vi saluto e ci vediamo sempre qui alla prossima recensione da leonard un saluto